È stata presentata nella casa di cura a Villa Fiorita, Perugia, la nuova tecnologia chirurgica RAS, Robotic Assistance Surgery, chirurgia con assistenza robotica eseguita con il Robocori, con la quale il professor Giuliano Cerulli ha effettuato il primo intervento protesico in Italia, contemporaneamente su entrambe le ginocchia in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale. All'incontro hanno partecipato in rappresentanza del Comune di Perugia il vice sindaco Gianluca Tuteri, il direttore sanitario di Villa Fiorita Francesco Pellice e Gabriele Abete, intervenuti in rappresentanza di Villa Benedetta, gruppo proprietario della struttura. Presente anche l'ex calciatore della Juventus Sergio Brio, che ha raccontato la propria esperienza come paziente che si è sottoposto a Villa Fiorita all'intervento chirurgico-protesico ad entrambe le ginocchia. La chirurgia protesica, io faccio ginocchio, faccio anca, spalla, da un modo di vista protesico, è una chirurgia che ha rivoluzionato le problematiche di degenerazione, quindi di artrosi e di altre patologie che affliggono le persone quando colpiscono le articolazioni. Nel corso degli anni si è capito sempre di più che la cosa più importante è l'indicazione, cioè dare un'indicazione giusta e dire se il paziente abbia bisogno o meno di essere operato. Perfetto, pensate, il giorno stesso camminavo con le stampelle, un mese dopo non avevo più le stampelle, poi portavo già la macchina, due mesi dopo io a Roma per il traffico uso lo scooter, andavo in scooter, adesso cammino quasi perfettamente, insomma il decorso è abbastanza lungo, però mi sono trovato benissimo, non ho più dolori e quindi credo, spero di aver risolto il problema che prima era molto grave. E ovviamente questa è una battuta, pago le conseguenze di tutte le botte che mi hanno dato i miei avversari.